Leonardo Silva Revisorevole Avete mai sentito parlare di identità alimentare? Sapete che cos'è? L'identità alimentare è l'insieme di gusti, non preferenze, intolleranze, allergie e regimi alimentari che ognuno di noi ha. Ognuno di noi ha una sua identità alimentare. E appunto essa è unica. Al giorno d'oggi si sente parlare sempre di più del concetto di inclusione. E appunto per questo io vorrei fare una piccola riflessione sul concetto di inclusione a tavola, ovvero del rispetto della nostra identità alimentare anche quando mangiamo, quando mangiamo fuori casa o in un determinato ristorante. Qualcuno di voi ha una sua identità alimentare specifica? C'è qualcuno di voi che magari è vegano, intollerante al glutine, o allergico a un determinato ingrediente, o come me, che odio il broccolo. Io non posso vedere il broccolo nel piatto. E appunto per questo, tutto questo per dire che quando noi mangiamo e quando selezioniamo dei piatti all'interno dei locali, lo facciamo sulla base della nostra identità alimentare, sulla base dei nostri gusti e sulla base delle nostre esigenze, qualora ne avessimo di salute. Sapete quanti sono in Italia le persone che hanno minimo un'allergia alimentare? Sono circa 5 milioni di persone e in metà di essi, se ingeriscono un determinato ingrediente, possono avere delle reazioni talmente gravi fino ad arrivare a uno shock anafilattico. Come vedete, il numero non è affatto piccolo e quindi bisogna prestare sempre più attenzione all'identità alimentare. Molto spesso mi capita, quando esco fuori a pranzo, a cena, con i colleghi per lavoro, di fare fatica a trovare il ristorante adatto per il gruppo, perché ognuno ha dei gusti e ha un'identità alimentare. A voi è mai capitato, magari mettendo assieme amici, parenti, familiari, cene di lavoro, cene di classe, di far fatica a trovare il ristorante adatto ai vostri gusti e esigenze? Appunto per questo stiamo riconoscendo che le persone in generale sono sempre più attente, più attente in qualsiasi cosa e anche attente a quello che stanno mangiando. e appunto per questo, nonostante tutta questa attenzione, ad oggi trovare un ristorante adatto alle proprie esigenze rimane difficile. E appunto per questo noi, tre anni fa, abbiamo ideato un'app, definita oggi un Personal Food Advisor, con la quale con essa, scusate, nonostante comunque questo trend in continua crescita, i numeri lo stanno dimostrando e come possiamo vedere il 2% della popolazione italiana ad oggi è intollerante al glutine. L'8,9% delle persone nel 2020 sono state dichiarate vegane e vegetariane. Un numero in continua crescita, con una crescita in aree stabile. L'ha definita così VeganOc, l'associazione legata a chi appunto è vegano e vegetariano. Ma nonostante tutti questi numeri, tutto questo continuo di esigenze, aumento di esigenze, è ancora difficile ad oggi trovare il ristorante adatto. Appunto per questo noi tre anni fa abbiamo ideato un'app. E quest'app viene definita appunto un Personal Food Advisor ed è facile, veloce e simpatica e divertente da utilizzare. Come d'altronde deve essere ogni soluzione che si auspica nell'aiutare le persone, a migliorare la vita delle persone. Noi ad oggi con quell'app lì stiamo aiutando 90.000 persone in tutta Italia. E di queste 90.000 persone abbiamo analizzato i dati, le loro identità alimentari e abbiamo analizzato che il 12% di essi ha al minimo un'allergia alimentare diagnosticata. Il 48% di essi sta seguendo un regime alimentare. Come potete vedere nel grafico alle mie spalle possiamo vedere i numeri degli intolleranti adatto, i celiaci, i vegetariani, i vegani, fino ad arrivare al pesce italiano crudista e il fruttariano. Cosa non meno importante però è anche l'importanza del gusto. Il gusto a tavola abbiamo verificato che il 78% dei nostri utenti, utilizzatori, ha al minimo una non preferenza alimentare. Non mi piace questo piuttosto che questo. Ma come abbiamo fatto? Come abbiamo creato tutto questo? Siamo partiti da un sofisticato algoritmo che matcha le identità alimentari dei nostri utenti con il menu dei locali in modo tale da dare una soluzione all'utente con i piatti in grado e in linea con le sue esigenze. Cerco di spiegare un po' meglio. Un locale, quando inserisce un piatto, il nostro algoritmo calcola automaticamente i valori nutrizionali, gli allergeni e eventuali contaminazioni e per quali regimi esso è adatto. In questo modo l'utente quando scarica l'app e inizia ad utilizzare vedrà automaticamente per ogni locale nella quale andrà a visitare un menu filtrato ed adattato alle sue esigenze in linea con la sua identità alimentare, un menu cucito su misura, un menu tailor made. e appunto per questo quello che abbiamo fatto grazie all'innovazione è stato quello di prendere e mettere al centro del progetto le specificità alimentari di ognuno di noi e crearne un'opportunità in modo tale che il problema nel ricercare un ristorante viene più semplice, più dinamico e grazie alla tecnologia. Sulla base di questo quello che mi sento di dire è che quando usciamo fuori dalle nostre mura domestiche, quindi usciamo fuori casa. Stiamo consumando cultura quando siamo al teatro, al cinema, ad un concerto. Consumiamo esperienza quando viaggiamo, visitiamo nuovi posti o quando prendiamo il treno o un aereo. Ma quando siamo seduti a tavola non stiamo consumando solamente un piatto o un insieme di ingredienti. In quel momento lì stiamo consumando benessere. Io vi ringrazio. Ecco. Applausi Grazie Grazie